Ci sono tantissime persone che soffrono di un particolare tipo di ansia, mi riferisco a quella dell'ipocondria, ovvero il terrore costante di avere o di ammalarsi di una terribile malattia. Se anche tu senti di essere ipocondriaco, continua a guardare questo video. Chi soffre di ipocondria spesso si concentra su dei sintomi dando un'interpretazione personale. Per esempio, un mal di testa spesso viene interpretato come un tumore al cervello. Un dolore al petto spesso viene interpretato come un segno di un imminente attacco di infarto. La stanchezza diventa un segno del cancro. Quindi, come vediamo, ci sono delle convinzioni mentali dietro questo tipo di preoccupazioni. Per esempio, a volte si crede che questa preoccupazione eccessiva per la salute ti protegga. La persona ipocondriaca, infatti, pensa che il costante controllo e la costante ricerca di rassicurazioni in qualche modo la tenga in guardia da un'eventuale malattia. La questione, però, semplice, è quella di trovare un equilibrio. Quindi, cos'è un atteggiamento troppo prudente? O cos'è un atteggiamento troppo ossessivo che poi sfocia nell'ipocondria? Se hai una lunga storia, per esempio, di false previsioni, di visite mediche, di innumerevoli rassicurazioni che cerchi, anche rispetto alle altre persone che hai accanto, probabilmente non ti stai proteggendo, ma ti stai soltanto danneggiando, perché ti stai ossessionando sulla salute. Un'altra idea, diciamo, è quella di superfezionismo della salute e del corpo. In realtà il corpo, le funzioni del corpo non sono perfetti, quindi il segno di un mal di testa in realtà non è niente di speciale, è soltanto un semplice mal di testa. E altre cose che l'ipocondriaco può fare è quello di evitare le persone, i luoghi che in qualche modo ricordano una malattia. Quindi la persona può evitare di andare a fare una visita a persone malate, perché in qualche modo ricorda, oppure affiora quest'ansia molto forte per la paura di ammalarsi, luoghi che fanno parte delle malattie, come per esempio gli ospedali, o cose che magari, spiacevoli, che si possono guardare in televisione. Anche questo fa parte dell'ipocondria. Quindi è l'altra faccia dell'ipocondria. Quindi abbiamo l'ipocondriaco che cerca in qualche modo di cercare continue conferme con delle visite mediche, abbiamo l'ipocondriaco che invece evita completamente i luoghi, le persone, sempre per questa paura sottostante molto forte e deleteria. Ora ti faccio una semplice domanda. Quanto pensi che queste preoccupazioni stiano influenzando la tua vita? Ti rendi conto che magari stai trascorrendo una quantità di tempo eccessiva a preoccuparti e a rimuginare, di non goderti la vita presente, di far impazzire le persone che hai accanto con le tue continue preoccupazioni, lamentele e ricerca costante di rassicurazioni. Probabilmente ti stai solo deprimendo rispetto al mondo che ti circonda e stai spendendo ovviamente tempo e denaro in visite mediche inutili. Ti do alcuni semplici consigli in questo caso se soffri di ipocondria. La prima cosa ti consiglio di astenerti dal cercare informazioni su internet. Pensa a tutte le ore che stai sprecando nel cercare in maniera poco proficua una patologia, un'eventuale patologia che ti saprebbe dire certamente con certezza un medico. Ma la ricerca su internet non fa altro che aumentare l'ansia perché se tu clicchi un determinato sintomo su internet ovviamente ti dà una sfilza di articoli magari su cose che non c'entrano niente rispetto a quello che sta succedendo a te. Il secondo consiglio è quello di accettare l'incertezza. Viviamo in un mondo di incertezza come tutte le preoccupazioni. Pensi che preoccuparsi e rimuginare eliminerà la tua incertezza, quindi sei alla continua ricerca di un qualcosa di certo, in realtà non è così. Quindi accetta l'incertezza della vita. Rinunciare alla certezza è il passo più importante per riavere la tua vita. Terzo consiglio, accetta la morte come parte della vita. La morte per vivere la tua vita. Nessuno ne esce vivo. Cercare di eliminare la morte o il pensiero della morte, continuare a occupare gran parte della tua vita alla ricerca di un qualcosa che può minacciare la tua vita stessa significa poi alla fine non vivere. Non goderti quello che hai davanti. Questo per dire una piccola considerazione. La preoccupazione per la salute può far parte ovviamente della condizione umana ed è importante sottoporsi a regolari controlli, di consultare il medico per problemi reali. Ma la continua preoccupazione per la tua salute non fa altro che privarti completamente della tua vita. Quindi considera la possibilità di farti aiutare con un percorso di psicoterapia per capire cosa c'è sotto realmente queste preoccupazioni e per far sì che queste preoccupazioni non controllino la tua vita.